C&C System è punto di riferimento in Toscana per impianti elettrici e speciali, civili ed industriali. Negli ultimi mesi abbiamo sviluppato la commercializzazione di prodotti che vi aiuteranno nella sanificazione quotidiana delle vostre case, dei vostri negozi, delle vostre aziende in generale. Dalla lampade a LED germicide ultraviolette portatili, per sterilizzare le superfici di uso comune in pochi secondi, fino a lampade con light, ideali per impianti sportivi, spogliatoi e cabine prova, oppure lampade germicide che combinano raggi UV di tipo C ed ozono, esteticamente perfette per le scrivanie degli uffici per ritrovare, il giorno dopo, un ambiente sanificato. Ed infine le nostre punte di diamante, ideali per ambienti come scuole, sale d'aspetto, cliniche, ambienti commerciali. NebuClean, sistema nebbiogeno igienizzante e SunnyLED, il pannello a LED, combinato al sistema professionale per la circolazione e purificazione dell'aria, brevettato e certificato anti-covid. Contattateci per informazioni. C&C System, accendiamo soluzioni!